Mi ha detto di scrivere cose a caso da mimare per indovinare Eri l'unico con cui potevo fare la sua sfida Perché? Perché ci dovevamo prendere la pizza Bomba Mannaccia Forziere Bravo Che cosa c'entra? Apri c'è l'oro dentro quindi Non si chiama lanciere quello che fa così Più in alto pensalo Ah Zeus Ma ancora indovinato Un coglione E' una tigre Ah bravo Ma siete scemi? Lama Lama Spacciatore Roma Malestra E' giusto Serpente Frazello Non vale Funko Matt Aia Panca Frazello Grazie a tutti new old